ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi finalmente riesco a fare il video finale sul sul gioco death stranding allora che dire l'ho finito piuttosto rapidamente non mi sono soffermato a fare missioni secondarie e questo è un peccato però ho voluto proprio fare una corsa dato che da quanto so il finale non cambia e la storia è quella ho deciso di correre e finirlo l'ho finito in meno di 30 ore che dire è difficile è difficile tirare le conclusioni di questo gioco intanto coro cammino vado vado un po in giro mi do un'occhiata intorno sono qui nella zona iniziale dove avevamo cominciato con i primi video avete visto anche voi un sacco di video iniziare da questo punto la trama io la definisco veramente banale e nonostante probabilmente mi attirerò le critiche di alcuni che sostengono magari che ci sono buchi di trama oppure sostengono che la trama non sta in piedi io vi dico la mia è una di quelle trame che finisce e non dite ok bello fine lo spengo andate se come me interessati veramente al significato di tutto questo insomma andate a cercare in internet alcune magari spiegazioni alcune delle uccidazioni magari se vi è sfuggito qualcosa cioè non è una trama banale non è assolutamente una trama banale ci sono dei bellissimi colpi di scena ho trovato però come diceva una ragazza che ha recensito il gioco leggevo il suo articolo online non è stata un'esperienza divertente lei diceva così io dico questo è un sollievo averlo finito anche perché avevo altri titoli da giocare quindi mi è un po pesato sul finale però è una di quelle esperienze che comunque mi resteranno sempre questa ci sono un sacco anche di testi che trovate online su spiegazioni significati allegorici di di ogni cosa nel gioco la pioggia piuttosto che la citazione continua delle spiagge piuttosto che il bambino che ci portiamo dietro cioè una cosa proprio da fuori di testa kojima è una persona fuori dal comune anche ideare una storia del genere non non è banale non ci sono dei personaggi che nonostante non siano tanti ci sono giochi di ruolo che hanno personaggi che vedete molto di più di quelli che vedete qui in questo gioco ma qui vi affezionate forse un decimo perché qua ok è vero fate quello che sto facendo ora trasportate però vi sudate il viaggio vi affezionate i personaggi e sapete distinguerli e saranno personaggi che anche il fatto che sono collegati a a facce e volti di attori reali e vi ricordo ve li ricorderete sempre e che altro dire io ho viaggiato per lo più in moto quindi sono riuscito a fare cose assurde come anche andare nelle adesso qua non si vede ci sono delle montagne innevate con la moto non è proprio il massimo io mi sono un po lanciato ma al tempo stesso ho visto delle persone che hanno affrontato dei miei percorsi percorsi che ho affrontato anch'io completamente a piedi scalando montagne con corde scale producendo le attrezzature si sono godute il gioco molto più di me quindi se a voi piace valorizzare quello che non è mai valorizzato nessun gioco cioè il viaggio questo è il gioco sicuramente che fa per voi diciamo che anche un'altra cosa io non ho fatto tantissime secondarie ne ho fatte qualcuna perché ovviamente se dovete andare da punto a punto c e in mezzo c'è il punto b se dovete andare da qui a cui e in mezzo c'è qui andandoci magari vi prendete una missione che vi porta qui e poi da qui ne prendete una che vi porta qui così intanto aumentate aumentando il livello di connettività delle varie strutture vi danno delle cose che magari dovete lo specifica il gioco dovete cercarlo online sono sorta di segreti portando a livello 3 e livello 4 una struttura vi possono dare evoluzioni di tecnologie che avete nuove o evoluzioni di tecnologie che avete già quindi è il paradiso per i collezionisti sono i completazionisti si definiscono sono rimasto di sasso per i colpi di scena finali ed è un gioco che una volta che lo lo finirete diciamo se sarete così pazzi da ricominciarlo dico pazzi perché è stato veramente un'esperienza appagante ma che non rifarei perché vissuto una volta poi si chiude lì nel senso non ha senso fare altri viaggi non fare intendetemi è un'esperienza che consiglio a tutti perché è pesante da soddisfazione però non ha senso per me rigiocarlo ancora ormai la storia la so e non ha senso ricominciarla che vi dico solo questo io non farò nessun tipo di spoiler in questo piccolo breve video voglio solo dire che è stata ho voluto giocare questo titolo perché comunque entrerà nel bene nel male nella storia dei videogiochi perché se ne è parlato veramente tanto kojima è diciamo una personalità di spicco nel mondo dei videogiochi è paulisso per alcune cose discutibile su altre ci sono degli eventi diciamo dei piccoli eventi di qualche secondo che sono molto imbarazzanti cringe forse un termine che non mi piace ma che forse riassume di più e mi sono reso conto una cosa che avevo già detto in video precedente su questo gioco il fatto dei mi piace perché ho trovato soddisfazione a ricevere mi piace per delle strutture che avevo messo io a fine gioco mi sono stati dati tutto mi piace e li ho visti quindi era bello proprio entrare nel gioco vedere quanti mi avevano ringraziato ed è un po la ricerca del consenso che c'è ora nella nell'epoca moderna con i social per me non interessa insomma però ci sono tante persone che hanno contribuito moltissimo nel gioco creando tutte le strutture che vedete qui e devo ringraziare loro se tante volte mi sono schivato una parte diciamo ostica della dell'ambiente quindi diciamo che non è un gioco da 10 un amico mi diceva un gioco da 8 io lo definirei sì un gioco da 8 8 e mezzo perché comunque la storia alla fine ti lascia lì dici cavoli poi vai informati noti che magari ti hai perso un particolare c'è l'interpretazione ed è il classico gioco su cui starebbe bene benissimo un dibattito con un amico fai visto cosa ne pensi cavoli io non lo sapevo ed è una di quelle trame che secondo me poi qua la dico grossa che si può creare il suo diciamo non dico immaginario però insomma quando vi parlano di un sogno dove voi sognate vi viene in mente inception quando vi dicono che noi in realtà siamo delle entità programmate computer cosa vi viene in mente matrix qui di analogie se ne possono fare tantissime tipo piove direte crono pioggia la gente capirà cosa state dicendo parlerete di bb o le ca riunificare l'america insomma di cose su cui comunque si potrà parlare ce ne sono veramente tante quindi devo ringraziare chi mi ha fornito il gioco e anche kojima per aver creato comunque un qualcosa che nel bene e nel male resterà nella storia dei videogiochi ed è la prima vera esperienza di un viaggio un viaggio che nei giochi ripeto non è mai valorizzato gta the witcher due giochi dove magari si viaggia da punto a punto ma l'ambiente anche bellissimo fatto bene ma non ci si sofferma mai a guardarsi intorno vedere il particolare qua è l'opposto per quanto il mondo poi in realtà sia solo natura e quindi vuoto però non si è mai posto l'attenzione il peso su i passi fatti il percorso fatto quasi vi potete mettere in silenzio sentire il rumore della natura stando sempre però attenti che dici a ce ne sono veramente tante anche di terroristi di insomma i muli si chiamano quindi camminate il vostro odradec che questo vi mette in guardia e quel punto passate in modalità stealth e vi muovete un'ultima considerazione per quanto riguarda la tastiera io ho giocato con tastiera mouse non ho sentito la mancanza del pad forse sulla guida della moto magari un po più di precisione serviva però la corsa alla fine con lo shift correte con l'altro cammina ripremendolo camminate e poi premete lo shift e passate alla camminata lenta diciamo che l'ho trovato sufficiente anche perché non ha parezzo muoversi all'interno del menu con il mouse muovere tutto con il mouse e non con la scomodità dello stick destro ma questi sono puramente dei gusti personali ragazzi la diciamo la serie il ciclo su death stranding si conclude qui con queste ultime mie considerazioni non l'ho fatto tante volte ma ci tenevo a farlo per questo titolo si dia il via al dibattito ovviamente spoiler free per rispetto a chi lo giocheranno lo è ancora giocato insomma qua sotto nei commenti un abbraccio a tutti ringrazio ancora la kojima ringrazio chi mi ha fornito il codice e alla prossima ragazzi e ciao ciao